Il progetto di avventura è nato dall'osservare questa fabbrica che era l'ex faema, abbandonata da decenni e che produceva solo una presenza di automobili rubate, nel senso che tutto il territorio circostante si era degradato progressivamente. Il pensare di ristrutturare questa fabbrica è stato un pensiero molto concreto legato al cercare di rivitalizzare un luogo del lavoro, un luogo della cultura produttiva attraverso la nuova cultura produttiva legata soprattutto all'arte e al design, cercando di coagulare in questa zona delle realtà tipo scuole di design oppure se gesta abitare varie gallerie d'arte, in modo tale da riuscire a mettere insieme delle energie molto sinergetiche, in modo tale che il tessuto urbano tiguo potesse poi svilupparsi in una maniera concreta e abbandonando il concetto dell'abbandono. I have a project here in Lambrata, it's about time and space and the relation between people and space is because every city with industry and working class people, a lot of things change because of the going on of the time and there will be always be empty spaces in houses like places like this or in old offices because people move around and the hot core of the center is not always in the same place. The project I did, it's called in Dutch Span Sessie, you can say it's a very simple way of creating a shelf system, creating a shelf system that can interact in any kind of building to create space, to put things in because as long as people live they always want to collect things, they have, we have I can say we have that kind of yeah need to have to have space and to have things and also to have space to put things in. We'll be right back. We'll be right back.